Ehi, aspetta un secondo. Che stai facendo? Che è successo? Non posso. Come faccio a darti la lettera da fuori? Non c'eri? Non posso farlo. Che vuol dire non puoi fare? Non puoi fare cosa? Non posso dare la tua lettera a Nicky. Ma che vuol dire non puoi dare la tua lettera a Nicky? Perché? Che cosa ottengo io? In cambio cosa stai facendo tu per me? Mi avevi detto che se scrivo la lettera tu la dai a Nicky. Era questo l'accordo, giusto? Lo so, lo so. Perché io faccio così e lo rifaccio e lo rifaccio e lo rifaccio e faccio un sacco di cose per le persone e poi mi sveglio, sono vuota, non ho niente. Tiffany, ma di che stai parlando a me simile una ragazza nostra? Perché non riesci a farti le cose da sola? Io mi caccio sempre in queste cazzo di situazioni. Io do tutto agli altri. Sempre. E nessuno mai... Io non tengo mai quello che voglio. Capito? Non sono mia sorella. Ok. Va bene. D'accordo. Cosa posso fare per te? Non posso farlo. Tiffany, cosa posso fare per te? Dimmi qualcosa. Pensa a qualcosa. C'è una cosa. Ok, c'è una cosa. Perfetto. Cosa? Eh, una cosa, una cosa, una cosa di ballo. Ok, una cosa di ballo. Cosa? Una cosa di gara. Al Benjamin Franklin Hotel. Tommy, non ho mai voluto... Beh, Tommy, ma vieni, ma il cazzo quella farà. Potresti per favore? Possiamo? Sì, lo so, anche io non ho... Non ho filtri quando parlo. Lo so, non ho filtri quando parlo. 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 Ok, va bene. D'accordo, va bene. Ok, hai ragione, hai ragione. Scusami, hai ragione. Non volevo. Posso farlo solo se ho un compagno. E ora mi tocca rinunciarci. No, ma tu puoi scaldare Tiffany. Io non baderò con te. Ma di che stai parlando? Che c'è? Perché la tua agenda è così piena? Leggere furore e guardare football con tuo padre? Tiffany, io non posso ballare con te. Io non consegnerò la tua lettera del cazzo. Ehi, aspetta un secondo. Tu me l'avevi promesso. Grazie. Grazie. Grazie.